Il famoso cantante italiano Bugo di recente, pensate che sarebbe sbottato nel pieno del suo concerto ad Ascoli Piceno durante la Notte Bianca. L'ingresso è stato autorizzato soltanto a chi aveva il famoso Green Pass e pensate che proprio Bugo avrebbe poi abbandonato il palco, lasciando ovviamente interdetti i presenti. Bugo si stava esibendo con sincero, avrebbe interrotto quindi la canzone, avrebbe gettato per aria a asta il microfono e diciamo che avrebbe detto che non ce la fa proprio a vedere sedute le persone presenti. Le normative in corso infatti vanno a prevedere che il pubblico stia o meglio rimanga seduto con l'utilizzo della mascherina, una scena che però avrebbe creato una certa ira da parte dell'artista in questione. Bugo avrebbe abbandonato anche il palco, come si dice sul web, per poi andarsi ad esibire nuovamente di nuovo. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, iscrivetevi al canale, narratore italiano commentato. Ciao a tutti e al prossimo video.